Sei nuovissime ambulanze di ultima generazione sono in arrivo nei presidi ospedalieri dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. La direzione strategica ASP ne ha già disposto l'acquisto con un investimento di oltre 500.000 euro e i nuovi mezzi di soccorso entreranno in esercizio già entro il mese di febbraio. Aggiungendosi alla fornitura di due ambulanze per gli ospedali delicate e canicattì già perfezionata nel recente passato, il nuovo acquisto consente di rinnovare completamente la flotta dei mezzi di soccorso ospedalieri in uso nella provincia di Agrigento, garantendo migliori standard di efficienza e comfort durante il trasporto in emergenza. Sospensioni pneumatiche autolivellanti, impianto di condizionamento in due gruppi distinti per cabina di guida e vano sanitario, fari LED ad alta luminosità, cellula di sicurezza integrale. Impianti di ossigeno e aria medicale completi di ogni disposizione Uni 9507, perfetta coibentazione con l'uso di materiali ad alto potere fonotermoassorbente, sono alcune delle caratteristiche delle nuove ambulanze che a brevissimo sfrecceranno per le strade dell'Agrigentino. Non tutti i mezzi precedentemente utilizzati saranno dismessi o andranno in pensione. L'area gestione autoparco del settore tecnico dell'ASP con l'avallo direzionale ha infatti disposto che le due migliori, fra le vecchie ambulanze, continuino a rimanere disponibili e a far da muletto alle nuove in caso di temporanea indisponibilità per guasti o manutenzioni programmate. Il direttore generale facente funzioni, Alessandro Mazzara, ed il direttore sanitario Gaetano Mancuso esprimono piena soddisfazione per il perfezionamento del nuovo provvedimento che permette la sostituzione dei mezzi obsoleti e incrementa la sicurezza dei cittadini. L'ASP di Agrigento può oggi contare su uno dei più efficienti parchi auto per uso sanitario presenti sul panorama regionale. L'ammodernamento della flotta aziendale con l'acquisto delle nuove ambulanze assieme ai nove furgoni speciali destinati al trasporto di campioni ematici e di farmaci, già acquistati nel 2019, rappresenta uno dei risultati dell'intento di accrescere progressivamente la qualità di tutti i servizi aziendali.